Un'ispezione che a noi famiglie pare proprio una deliberata volontà di mettere a rischio il futuro dei nostri figli e delle nostre figlie. Lo scrivono un gruppo di genitori di figli transgender in una lettera aperta al Ministro della Salute Orazio Schillaci e ai vertici della Regione Toscana. Esprimono forte preoccupazione dopo la decisione del Governo di inviare gli ispettori ministeriali al centro dell'ospedale di Carigi a Firenze che si occupa della disforia di genere. Per le famiglie nel caso di Carigi si sta cercando in modo inquisitorio l'errore per ragioni politiche sulla pelle delle famiglie e delle persone più giovani che invece dovrebbero essere quelle che più stanno a cuore a uno Stato democratico. Le famiglie si dicono certe della validità dell'operato dell'ospedale fiorentino, tuttavia ritengono che sia legittimo volersi accertare che sia tutelato il benessere delle persone, contestano però a gran voce la modalità. La lettera chiede quindi che sia verificata la competenza sulla tematica di chi sta eseguendo l'ispezione, chiede che sia certi che tale controllo avvenga seguendo criteri legali, che almeno chi fa politica smetta di sostenere pubblicamente finti dati scientifici che alludono alla follia dei nostri figli e delle nostre figlie e che già condannano mediaticamente l'operato di Careggi e l'uso della triptorelina e plagiano l'opinione pubblica. Nella lettera si aggiunge che ieri sono arrivate minacce via mail a una famiglia. È inaccettabile, concludono che una interrogazione e un'ispezione espongano in questo modo delle giovani persone e mettono a rischio le vite di famiglie che non hanno fatto nulla tranne che tutelare il benessere dei propri figli e delle proprie figlie.